chai i chai i 538 597 buddista cinese sin dall'infanzia in grado di recitare un intero sutra avendolo ascoltato una sola volta nel 567 si ritira in un monastero sulla montagna tientai dove fonda il tientai scuola della piattaforma celeste dal monte tientai si diffonderà la dottrina che giunse in giappone grazie a saisho morto nel 1822 e prenderà il nome di tendai da cui la scuola tendai shu commento i grandi tramiti spirituali si dimostrano tali sin dall'infanzia in oriente come in occidente